Ciao a tutti ragazzi da Zebra, siamo a pochi minuti all'inizio di questa nuova avventura in Champions della Juventus. Ragazzi, vediamo un'altra formazione ufficiale della Juventus. Di Gregorio, Calulu, Gatti, Bremer, Cambiasso, McKennie, Locatelli, Nico Gonzalez, Copp Maners, Ildiz e Vlaovic. Sempre quel 4-2-3-1. Come mai questa... questa... possiamo dirlo... novità? Perché tutto mi aspettavo, ma tranne un McKennie lì in mezzo. Io credo che dall'ultima partita forse sta cercando più dinamicità, sta cercando più fisicità lì al centrocampo, che si lotti di più, si riconquista palla e poi in ripartenza andare, andare e galoppare. Credo che voglia fare... stia facendo un esperimento, stia facendo qualcosa che per capire se lo può utilizzare anche in campionato o una cosa del genere. Comunque sappiamo benissimo che Douglas Lewis, in questo caso, perché lui entra proprio a posto di Douglas Lewis, non è in condizione di affrontare una partita in questo momento. Lo abbiamo visto, lo abbiamo continuato a vedere in queste prime partite di campionato. Lui cammina in campo. non dà quello sprint in più e infatti in Champions League il mister quasi 50 milioni, ragazzi, lo lascia in panchina. Questa dimostrazione che è con Tiago Motta comunque o dai o dai. Questo è l'importante, l'importanza che bisogna dare ad ogni partita. Certo, cambiare sempre significa ancora che Tiago Motta non ha un quadro generale di questa situazione, di questa Juventus, ma ci sta una squadra nuova, bisogna fare esperimenti e capire effettivamente chi può essere errorabile e chi no. Ragazzi, ripeto, siamo a pochi minuti, durerà pochissimo questo video, poi ne riparleremo post partita. Mi auguro che vada tutto bene, sempre, forza, Juve, fino alla fine. Dagli, ragazzi, dagli, a dopo, ciao.